Dopo nove stagioni, anche quest'anno, siamo riusciti a portare a casa un grande progetto di comunicazione che è quello di testimoniare il nostro territorio attraverso l'impresa, attraverso la cultura, attraverso una serie di indicazioni che già dal nome stesso, Zenta de Borg, tra le sue origini, perciò anche il dialetto, le nostre radici. Questo fa sì che questo piccolo documento rimanga anche per il futuro, perciò nuove edizioni, una piccola storia che si visualizza attraverso le nostre emittenti locali che anzi colgo l'occasione di ringraziare per l'assistenza. Permettetemi anche un ringraziamento personale al backstage, perciò alla conduttrice, alla regia, a tutte le persone che hanno collaborato a far sì che questa trasmissione sia ben riuscita dal punto di vista tecnico. Speriamo, grazie allo vostro audience, che sia anche risultato piacevole. Perciò a tutti i telespettatori e tutte le persone che hanno seguito Zenta de Borg anche su YouTube, un nuovo strumento di comunicazione è internet, e tutti i social che seguono la parte anche di diffusione del messaggio. Un ringraziamento anche, permettetemi, a tutte le aziende che hanno sostenuto con la loro immagine, con la loro pubblicità questa nonna edizione. Un arrivederci a presto, nel 2013-2014, per festeggiare insieme a voi la decima edizione.